Sarà Gabriele Bernardotto, l'uomo chiamato a portare al Teramo i gol che serviranno per l'obiettivo stagionale del Diavolo. L'attaccante classe 1997 ieri sera è virtualmente diventato un nuovo calciatore bianco-rosso, con la fumata bianca per l'operazione in prestito per una stagione. L'attaccante però prima rinnoverà il contratto in scadenza con l'Avellino nel 2022 per altri due anni e poi sarà libero di accasarsi in Abruzzo dove lo aspetta Federico Guidi, che ha voluto fortemente la centravanti ex Vibonese e che nella stagione passata in Irpigna ha messo insieme 34 presenze e 5 reti. Il pressing delle ultime ore del direttore sportivo Carlo Musa ha permesso di sbaragliare la concorrenza di Gubbio, che era decisamente in pollo fino a una settimana fa, Paganese e Monterosi. Cresciuto nelle giovanili della Lupa Roma, Bernardotto si è fatto strada nei gironi H e G di Serie D con le maglie di Anzio prima e Trastevere poi. Ma girone G spesso vuol dire anche Sardegna ed ecco che nella stagione 2018-2019 arriva la chiamata proprio dall'isola, precisamente Lanusei, dove raggiunge il livello più alto della sua carriera. 15 reti in 34 incontri giocati con Lanusei che fino alla fine contende all'Avellino un posto tra i professionisti. I bianco-verdi torneranno nella sua carriera ma non subito, perché Bernardotto e la Serie C ci valano dopo ma passando per la Calabria e dalla Vibonese, con cui sfiora a stagione 19-20 i play-off ad un punto di distanza dall'Avellino, che a questo punto si convince e lo prende. L'estate scorsa tanta concorrenza e forse la sua stagione più opaca da riscattare con i nuovi colori del Teramo. Molto presto, ingaggio importante e da circa 85.000 euro più i bonus legati al rendimento, assicurano un uomo di grande forza fisica e di impatto nell'area avversaria imprescindibile. Per una squadra, il Teramo, che proprio in quella zona di campo ha avuto le maggiori difficoltà nel campionato appena andato agli archivi. Adesso davanti, con Birligea che sarà la principale alternativa proprio a Bernardotto, mancano solo gli esterni mancini. Considerato che a destra, con Malotti arrivato ieri alla corte di guidi per il primo allenamento, e con K, la batteria sul fronte destro dovrebbe essere completa. Mancherebbero poi gli esterni di difesa ad alternare a Rillo e a Ziosmanovic, prima dell'avvio anticipato di campionato, perché sono ufficiali anche gli orari delle prime tre giornate. Sabato 28, in serata, a Chiavari, l'esordio contro la Virtus Sentella, poi due gare di domenica alle 17.30, la seconda col Siena domenica 5 settembre, la terza a Modena, domenica 12.